Ed eccomi tornato qui con questo maglione fosforescente e dietro allo sfondo che sembra quello di un film per adulti degli anni 80 per parlarvi di questa app, di questo tool, del quale vi ho parlato anche in un post su YouTube di recente e per il quale molti di voi mi hanno chiesto di andare ad approfondire e che faccio con piacere perché l'ho scoperto di recente e mi sembra fantastico. E' un tool che è anche a pagamento ma in questo caso si può usare anche la versione gratuita in maniera tranquilla perché offre praticamente quasi tutto quello che offre la versione a pagamento, ci sono delle cose in più che poi vi faccio vedere perché io ho quella a pagamento, ovviamente lavorandoci per YouTube non ha senso usare solo quella gratuita, ma ve la faccio conoscere a fondo, si chiama GetQueen per chi non la conoscesse, sotto se volete vedere trovate il link ovviamente della piattaforma se volete andarla a vedere e a registrarvi. Allora, partiamo subito, vi faccio vedere una panoramica generale su come funziona e quali sono i vantaggi e i svantaggi di questa piattaforma, ricordandovi che non mi hanno dato un euro per questo video. Se mi dessero, non so, mille euro? Due mila? Allora, nella schermata principale si vede un feed di persone che pubblicano il loro post, in pratica è un po' come una specie di Facebook, nel senso che ognuno può andare a pubblicare i propri pensieri, i propri portafogli, li può andare a condividere, cosa bella, ognuno li può anche mettere in privato in modo che gli altri non li vedano, però li può condividere. Per discutere anche delle operazioni e farlo un po' tipo una specie di social. Qui in alto ci sono i vari tastini, questo è l'home dove si trova il feed, qui abbiamo il portafoglio e qui i preferiti e poi qui le notifiche. Per esempio, quando collegate con l'API, che per molti siti funziona in automatico, il portafoglio appunto a questo tool, a GetQueen, in automatico vi importa tutte le operazioni e se fate operazioni nuove sul vostro portafoglio collegato in API, in automatico vi adiva la notifica qui che sono state aggiunte delle posizioni. Cosa che ho fatto di recente perché io con Directa, che ho collegato a GetQueen, ho un pack su alcuni ETF e infatti cliccando qui, come potete vedere c'è scritto due transazioni sono state create automaticamente appunto per quel motivo. Allora, partiamo a vedere la parte più importante, poi insomma la watch list e tutto il resto è di contorno perché è quello che interessa di più sia a me che a voi. Cliccando sul portafoglio qui possiamo vedere quello che è tutta la nostra allocazione. Allora, io ho nascosto le cifre non perché non ve le voglia comunicare, perché invece voglio fare successivamente un video sul mio portafoglio e ancora sto allocando alcune cose, per cui non sono gne gne gne. Allora, qui in alto abbiamo l'aggregato, per cui se avete più di un portafoglio su più piattaforme o se avete altri investimenti non normali, infatti come potete vedere qui io ho Banca Udiba, il mio fondo di emergenza che sta su un conto deposito, Directa, il mio investimento in startup tramite Newit e i miei investimenti in prepay. Questi investimenti che sono fissi, diciamo non hanno dei rendimenti veri e propri, per esempio Newit e prepay non sono degli investimenti che sono facilmente aggiustabili in termini di rendimenti così come il mercato azionario di ETF e le obbligazioni, e per cui in questo caso dall'aggregato io ho eliminato questo perché mi va a fasare quello che è il mio rendimento, perché questi, il fondo di emergenza non guadagna, startup Newit neanche guadagna perché non è qualcosa di gestibile e prepay neanche. Allora da questo punto di vista li ho elevati dall'aggregato in maniera tale che il rendimento che vedo qui è quello reale. Poi dall'aggregato possiamo passare ai singoli portafogli, per cui Udiba quanto mi sta rendendo, il fondo di emergenza ovviamente è una renderente, Directa quanto mi sta rendendo oggi, Newit neanche e prepay neanche. Da questo tastino del settings possiamo andare a decidere di aggiungere al portafoglio aggregato questa posizione, per esempio se io la vado ad aggiungere questa, che ovviamente in questo momento non è aggregata, la startup Newit e prepay investimenti cambia anche il rendimento odierno aggregato, si abbassa perché come dicevo prima quelle posizioni non danno rendimento, e però va ad aumentare anche la torta. Adesso vi faccio vedere come viene gestita la torta con l'aggregato perché insomma quando devo fare delle analisi sull'allocazione totale questo lo vado diciamo ad ampliare e quindi ad abilitare, mentre se dovessi fare solo un'allocazione per rendimento in quel caso allora lo vado ad eliminare. Qui abbiamo una torta per tipo per cui abbiamo etf 48 quasi 49%, cash che è il mio fondo di emergenza 22%, stocks 21%, le startup il 4,53% e il custom asset che sarebbe il prepay investimenti un 39%. Poi abbiamo la diversificazione per posizioni per cui abbiamo il mio etf MCI World, Emergency Fund, Realty Income e così via, non ve li faccio vedere perché poi se no che brutto è, devo fare il video sul portafoglio. Le regioni geografiche, Ampie, Nord America, le altre e poi Europa, Developed e Japan e così via, i settori abbiamo il 33% che è diversificato, poi abbiamo Information Technology, Real Estate, Financial Healthcare e così via, i asset per cui tutte le singole posizioni, questa più grande sono le equity, poi abbiamo i bond, altro e cash. La diversificazione per nazioni per cui in questo caso ovviamente potete capire questo è gli Stati Uniti d'America e anche per quanto riguarda le valute. Tutto qui. Qui abbiamo le performance da questo lato sulla destra per anno 2021, 2022 e 2023, la performance breakdown per cui il guadagno per il prezzo, quello dei dividendi, le perdite realizzate, i costi di transazione e le tasse e il True Time Waiter Real Return che appunto come dice qui va a calcolare il ritorno del portafoglio fino al giorno precedente di transazione, quindi di tradaggio e prende anche in considerazione l'impatto dei soldi liquidi, degli introiti di cash e le uscite di cash durante il periodo di investimento e a differenza del normale ritorno sugli investimenti questo prende in considerazione anche il timing e la magnitudine dei movimenti di capitale all'interno del portafoglio. La cosa interessante è che qui abbiamo i ritorni per tipologia di asset in base al rendimento totale, ovviamente se vado ad eliminare l'emergency fund e le altre posizioni andiamo a vedere quello che è il ritorno diciamo reale. La cosa bella però di dividendi di questa sezione che è quella che mi interessa di più è che oltre a dire quelli che sono i dividendi che sono stati incassati come in questo caso o che sono annunciati va anche a fare una previsione, un forecast dei rendimenti da dividendo. Questo serve anche per programmare il 2024 ad esempio. Quanto incasseremo nel 2024 i dividendi per esempio per Main Street Capital o per il Global Nasdaq o per Realty Income? In questo modo anche il sistema va a fare una stima di quella che è la crescita del dividendo storico e presume quali sia i dividendi nell'anno successivo. Questo serve anche per una certa pianificazione dei dividendi che secondo me è una cosa eccezionale, non l'ho visto fare in giro. Nel momento in cui sono passati i 12 mesi qui abbiamo anche lo yield medio del dividendo e il cosiddetto yield on cost, il year on year growth del dividendo per cui qual è la percentuale di aumento del dividendo anno su anno e questo appunto ci serve anche a calcolare il nostro yield on cost. Secondo me è una cosa fantastica, poi non so come la vedete voi ma per me è stupenda. Transazioni, tutte quelle che sono state fatte ma anche quelle che sono state chiuse, io faccio tutte queste transazioni perché è un FAQ, non perché perde il tempo dalla mattina alla sera a fare transazioni e poi anche le transazioni che sono state chiuse per cui quelle che non sono più all'interno del portafoglio che vanno anche nel computo del rendimento totale nel portafoglio. Ora vi faccio vedere che se io andassi a togliere dall'aggregato sia il fondo di emergenza che la startup che prepay, a questo punto cambierebbe anche l'allocazione per posizioni anche per tipo, il rendimento giornaliero, il rendimento anno su anno e così via è quello massimo. Lo reputo veramente un bellissimo tool da utilizzare anche perché la maggior parte delle cose sono gratuite. Nella versione a pagamento la differenza qual è? Che in termini di allocazione ci sono meno parametri da guardare per cui ad esempio invece di trovarvi tutti questi parametri, currencies, countries e così via magari troverete solo position, region e sector ad esempio, è la stessa cosa per il forecast dei dividendi in quel caso troverete solo alcune metriche e non tutte, linea di massima, anche la versione gratuita secondo me dà gli ottimi obiettivi. Poi se voi avete un patrimonio medio ma anche grande o comunque se volete controllare in maniera metodica quello che è la crescita del vostro dividendo negli anni, qual è il forecast dei dividendi nel tempo, secondo me pagare credo che sia 40 euro l'anno è sostenibile come spesa. Inoltre si può anche andare a condividere il nostro portafoglio sia in value che in username, sia sulle piattaforme ma ovviamente anche all'interno della piattaforma di GetQueen. Poi dicevamo prima, qui abbiamo i favoriti dove possiamo tenere in considerazione quello che sono i nostri diciamo parametri, quelle che sono le aziende che vogliamo tenere sotto controllo e nel caso anche inserire update, per cui aggiornamenti su quell'azienda. Come dicevo prima, qui abbiamo le notifiche in cui possiamo vedere quelle che sono le transazioni che abbiamo effettuato, se qualche user ci comincia a seguire o noi cominciamo a seguire lui e si accetta l'accettazione della nostra amicizia qui in basso abbiamo un tasto di chat automatico per parlare in automatico, per importare le nostre transazioni con un CSV, per importare con GetQueen un PDF, per autogenerare delle transazioni e poi scrivendo qui si può parlare in chat direttamente col team di GetQueen e ci sono come potete vedere qui due persone collegate. Qui abbiamo il profilo dove possiamo settare quelli che sono la nostra lingua se il nostro profilo è visibile a tutti, solo a chi ci segue o se ci sono degli utenti bloccati anche quella che è la password, il mio username, le notifiche come dicevo prima e i documenti delle polizie e così via. E poi se si vuole invitare un amico si può ottenere diciamo dei mesi di premium gratuito, quelli a pagamento appunto gratuito. Il mio link lo trovate nella descrizione dei video d'ora in poi perché insomma secondo me è un tool eccezionale e se lo posso avere grazie a voi insomma mi sostenete veramente con poco, non costa niente di più a voi. Si possono anche aggiungere i portafogli per cui se volete creare qui in alto un qualcosa con una Trade Republic, Toro, Binance, Intesa San Paolo, Fineco o un qualcosa di custom potete cercare qui l'asset da inserire e lo inserite. Oppure se volete creare qualcosa con la vostra piattaforma diciamo prima Intesa San Paolo potete fare l'import manuale. Per quelle banche che invece sono gestite con l'API, ad esempio vedevo i Toro, con l'Automatic Connection collegate il vostro portafoglio qui, date il vostro username e password e in automatico riuscite a gestire tutte le transazioni in maniera API. Mi sembra fantastico. Allora come dicevo secondo me GetQueen è un tool eccezionale, è gratuito per cui vale la pena sicuramente iscriversi per chi vuole seguire il proprio portafoglio e per chi vuole seguire i propri dividendi anche nel tempo e soprattutto come dicevo prima la cosa più interessante è il fatto che si possano andare a seguire il forecast per cui le aspettative di dividendo nel tempo, incluso le cedole. Se vi interessa sapere io avevo chiesto anche durante una chat al team di GetQueen tutto quello che è tradabile che è presente sul vostro broker per cui anche se il vostro broker ha dei certificati dei warrant e così via in automatico se è tradabile su una borsa in automatico viene importato anche sull'app di GetQueen che è una cosa interessante ed eccezionale. Se qualcosa però non è presente bene ricordandovi che questi non sono nei così a investire o non investire ma comunque è un consiglio iscriverti alla piattaforma perché tante gratuite a te non costa niente. In ogni caso se questo contenuto è stato il tuo gradimento ti ricordo di lasciare un bel pollice in su. Se sei nuovo su questo canale o semplicemente passando hai visto questa persona col maione fosforescente e un set per film per adulti degli anni 80 alle sue spalle e vorresti far parte di questa famiglia potresti iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche così ti verrà notificato ogni nuovo video. Bene ti saluto e mi raccomando se vuoi avere altre notifiche o altre notizie in più puoi anche iscriviti al mio Patreon che costa più o meno come una colazione al mese dove pubblico contenuti assolutamente dedicati a voi. A presto!